Ciao a tutti, brevissimo video, piccolo aggiornamento, volevo farvi vedere una cosa che mi hanno chiesto di tanti ho lasciato questo tetto aperto durante questa settimana di diluvi, il 20 dicembre e come sapete ha piovuto in tutta Italia veramente tanto, abbiamo avuto anche mezzo schiazzale allagato e quello che mi chiede la gente è se il telo è un problema con la pioggia a parte il prodotto impermeabilizzante che evita proprio di anche solo bagnarlo il tetto e quindi evitiamo il problema di doverlo magari chiudere da bagnato e quindi poi doverlo riaprire per farlo asciugare successivamente in questo caso come vedete il tetto, il telo è completamente bagnato però all'interno non c'è acqua, né proprio come tela e né qui sui bordi quindi non vi porta dentro acqua, anche se il telo da fuori si bagna, il cotone è idrofilo una volta che è bagnato non porta più acqua dentro, quindi riuscite ad utilizzarlo tranquillamente il liquido impermeabilizzante serve solo per evitare che anche fuori si inumidisca alla prossima, ciao a tutti